Presidente, qual è il futuro della Camera di Commercio di Catanzaro e come vede la situazione? Io mi sono tincerato dietro a un rigoroso silenzio stampa, non voglio commentare gli accadimenti che hanno coinvolto non tanto me ma la Camera di Commercio. Credo che comunque una valutazione, non la cittadinanza di questa città e nemmeno di questa provincia, ma l'intera Calabria sia capace di farla, una valutazione che non è certamente legata a fattori di carattere politico, almeno per quanto mi riguarda. Mi sono dichiarato indisponibile a fare qualunque tipo di dichiarazione, lo faccio anche in questo momento, in questa intervista della quale vi ringrazio, ma sono molto preoccupato, questa è l'unica cosa che voglio sottolineare, sono molto preoccupato per gli effetti che potrà subire la Camera di Commercio attraverso una illogica condizione che non si riferisce esclusivamente all'atto commissariale, alla soluzione illogica della mancanza totale di comprensione di ogni passaggio istituzionale all'interno di un sistema assai complesso che non può essere guidato azzardando al momento soluzioni o conduzioni gestionali che non fanno parte né dell'ente né della storia che in questi ultimi anni abbiamo tracciato e disegnato per lo sviluppo del territorio. Presidente Abramo, però ci sono state tante comunicazioni alla stampa di solidarietà nei suoi riguardi, almeno su questo cosa può dirci in proposito? Vi ringrazio di questa sottolineatura perché colgo l'occasione, ripeto, avendo volutamente trascurato di rilasciare ai mezzi di informazione qualunque tipo di dichiarazione e vi ringrazio perché mi dà la possibilità di ringraziare tutti coloro i quali non hanno, questa è la cosa straordinariamente positiva, non hanno solo voluto offrire degli elogi immeritati alla mia persona, modesta persona, ma hanno voluto difendere ma soprattutto levare il grido di disappunto per quanto attiene qualche cosa che gli altri dichiarano essere un atto di espropriazione intellettiva ed intellettuale all'interno di questa città e di questa provincia. Da sempre a livello istituzionale ho mantenuto grande riservo ma soprattutto grande equilibrio, mi duole che qualcuno pensi che all'interno della Camera di Commercio che è diventato un ente da alcuni anni di straordinaria capacità soprattutto istituzionale e di grande equilibrio che ha sempre dimostrato attraverso la mia persona ma erano le decisioni dei sistemi intercategoriali che gestiscono la Camera di Commercio quindi ha dimostrato questo sistema di funzionare con grande capacità, di funzionare con grande moderatezza, con grande equilibrio, con un grande senso del dovere e sono particolarmente amaraggiato non per qualche cosa che mi riguarda personalmente perché alla mia vita non è accaduto assolutamente nulla ma qualcuno la chiama espoliazione ma quantomeno io la chiamo distrazione nei confronti di un ente che tutti dicono essere un fiore all'occhiello del sistema camerale italiano quindi distrazioni forse che questo territorio non si può consentire ma chi effettua le distrazioni credo che si assuma la responsabilità delle proprie azioni e poi c'è voglio dire alla popolazione ci sono tutti coloro i quali elementi pensanti che possono giudicare secondo quelle che sono le condizioni di questo momento ma soprattutto del futuro Presidente Abramo per concludere qual è il messaggio che si sente di lanciare al Presidente della Regione Mario Oliverio? Nessun messaggio, lui fa il suo mestiere, giudicheranno gli altri se lo fa bene o male, non sta a me né giudicare né valutare io credo solo l'unica cosa che mi permetto di dire è che forse sono in troppi nella politica a ritenere che la gente sia stupida che la gente non comprenda e invece c'è un popolo che forse in modo troppo silente quindi un silenzio assordante ma giudica e giudica secondo con contezza le cose che sente, che vede e ha la capacità poi di valutare il lavoro di ognuno di noi prima lei diceva che si sono levate a mio favore una serie di scudi credo che questo non sia dovuto alla simpatia nei confronti della mia modestissima persona ma per onorare il lavoro che in 17 anni è stato compiuto in un ente che è diventato qualcuno dice il fiore all'occhiero del sistema camerale italiano forse è vero, forse sarà esagerato ma di certo è che abbiamo approfuso un grande amore non solo io, abbiamo volutamente, non è un noi mai stati ma noi, io e i miei colleghi abbiamo approfuso con grande amore e con grande sentimento e spirito di servizio effetti che sono sotto gli occhi di tutti, non per fare elencazioni di risultati che non ho mai fatto e che mi rifiuto di fare per non parafrasare e per non seguire il percorso che di solito seguono quelli che parlano il politichese. In lingua pratichese abbiamo detto ma soprattutto in pratichese abbiamo fatto delle cose molto importanti per il territorio, di questi siamo particolarmente soddisfatti non pretendiamo, come io personalmente non pretendo nulla, neanche un minimo ringraziamento credo di aver già goduto della stima dimostratemi in questi giorni, dimostratemi all'ente camerale in questi giorni che certamente ripaga tutti gli sforzi fatti in quasi un ventennio di buona amministrazione.